Un riconoscimento internazionale per premiare i piccoli comuni più meritevoli lo ha ottenuto in Corea del Sud, pensate, Asolo. In servizio di Barnaba Ungaro e Claudio Dezzano. Asolo, campione mondiale tra le città slow. Dalla Corea del Sud, dove è stato assegnato il premio, un riconoscimento per le migliori iniziative finalizzate ad incentivare strategie ambientali, paesaggistiche e culturali. Un circuito internazionale con 240 comuni da 30 stati di tutto il mondo. Asolo ha sbaragliato la concorrenza per aver abbinato la tutela del territorio attraverso la sua produttività naturale, in sostanza la coltivazione anche come manutenzione. La tenuta delle nostre colline l'abbiamo anche grazie agli investimenti che si stanno facendo con la lavorazione della terra, con gli olivi, non solo gli olivi, con i vigneti, non solo i vigneti ma anche con i ciliegi e con altre tipologie di piante specifiche del nostro territorio. E quindi l'utilizzo di tecniche di sostenibilità delle nostre culture. 3000 gli olivi sui colli asolani per il 10% ultrasecolari. Per l'olio quest'anno è arrivata anche la denominazione di origine protetta. E poi la viticoltura attualmente con una decina di vini diversi. Tutto questo grazie alla riscoperta di specie che andavano scomparendo per uscire così dalla monocoltivazione finalizzata al prosecco. Non c'è solo la glera che è importante, però si sta valorizzando e riscoprendo anche dei vitigni che c'erano da prima, tipo la ricantina, ma poi anche famoso nostro è il montello di OCG che è un uvaggio bordolese. C'è una ricerca anche fatta su vigneti vecchi risalenti a Napoleone, sui quali si sta studiando.